Sono qui a Roma Center Climb perché avevo fatto delle esperienze precedenti che ritengo piuttosto negative così ho cercato e mi sono imbattuta nel sito del Roma Center Climb e quando ho letto la presentazione del metodo Kata Climb sono rimasta molto colpita, ovviamente molto interessata e così mi sono avvicinata, ho fatto una prova e adesso posso dire che le aspettative sono state superate di gran lunga il metodo Kata Climb di Marco Nescatelli è un metodo completo a 360 gradi, è duttile, si può adattare a qualsiasi livello volendo Marco è una persona fuori dal comune, è un vero autentico maestro nel vero senso della parola qui ho trovato un ambiente sereno dove si lavora con molto rispetto e soprattutto davvero accogliente e si lavora veramente sodo tra l'altro, si lavora duro qui io ho trovato la mia dimensione, invito tutti ma con il cuore a venire a trovare la vostra vale la pena di venire a cercarla qui, ciao!